Vogliamo fare una passeggiata da Colle Salvetti fino al bosco della Sambuca. Con la macchina possiamo, da Colle Salvetti, prendere la 206 e andare verso Nugola. Qui siamo alla rotatoria. Andiamo verso Nugola e prendiamo via delle sorgenti. Costeggiamo Nugola vecchia e Nugola nuova e poi dirigiamoci verso Livorno. Ad un certo punto, giunti all'incrocio di Parrana-San Martino, prendiamo per la polveriera dove c'è il tirassegno. E da qui possiamo proseguire a piedi per una bella passeggiata che ci porti alla Sambuca o fra i boschi. che sono tra Colle Salvetti e Livorno, Palle Benedetta. La via si chiama via del Corbolone. Grazie. Grazie.